Ciao Norvadex, sei su Morpitalia? Sì, sì, sono su Morpitalia. Per te, qual è l'altro gioco preferito, Internet? Eh, te, te, là. Negli ultimi tempi direi che è un bel gioco, una bella scenografia, i livelli, mi piace, sì, 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 mi piace. Sì? E il tuo secondo? Gioco preferito? Sì. E adesso? Sì. The Secret World, originale, senza livelli, una progressione del personaggio particolare, le skill, la ruota dell'abita, bello, sì. E in Marvel ti piacciono? Ah, Marvel? Sì. Che Marvel? Super Hero Squad Online? Sì. Bellissimo, altro che terra è The Secret World, quello sì che è un gioco, Marvel Super Hero Squad Online, sì, mi piace tantissimo. I maghetti? I maghetti, in alto browser game. Wizard 101, dici? Il migliore, un gioco strategico che è altro che Geek Wars 2, veramente, io non so perché l'abbiamo fatto Geek Wars 2, c'era già Wizard 101, veramente bellissimo. Poi, un altro gioco? Che gioco abbiamo? Voleva dire, sì, la vedo, la vedo negli occhi che mi stava per dire qualcosa dei Lego. Lego Universe. Lego Universe, non so perché l'abbiano chiuso, perché Lego Universe veramente li batteva tutti, li batteva Terra, The Secret World, vero? È vero, le piaceva a lei Lego Universe? Dica qualcosa, cos'è che le piaceva di più di Lego Universe? Il mio personaggio. Il tuo personaggio? Sì. Ma era il migliore gioco di tutti? Sì. Eh, ho capito, va bene, vorrebbe un altro gioco dei Lego, ma lo sa che lo stanno facendo, eh? Sì. Va bene, allora aspettiamo quello? Sì. Va bene, ciao a tutti.